Una faida sentimentale che nascondeva e nasconde questioni ben più prosaiche. L'omicidio di Giuseppe Falco, ucciso il 4 febbraio scorso alle 11.30 in pieno centro ad Adelfia, avrebbe avuto come movente dei rancori fra il 51enne Denato Pellegrino, amico di Falco, e Nicola Annoscia, il 23enne arrestato per il delitto, nate per questioni di gelosia nei confronti di una donna del paese. Annoscia, già ai domiciliari per altri reati, il 4 febbraio si era recato a Bari per un'udienza. Sulla via del ritorno, aiutato dal 29enne barese Pasquale Lorusso, con cui avrebbe brindato dopo l'omicidio, avrebbe raggiunto Giuseppe Falco di fronte a un bar in via della chiesa, freddandolo di fronte a decine di persone. Che agli inquirenti, però, hanno dichiarato di non aver visto nulla, tanto che i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'accaduto solo grazie alle telecamere di sorveglianza. Non c'è stata nessuna testimonianza, nessuno ha visto nulla, c'è stato però un lavoro intenso, certosino, dell'arma di Adelfia, dalla compagnia di Trigiano, del nucleo investigativo, che ha messo insieme vari tasselli in maniera meticolosa e scololosa per arrivare a questo importante risultato. La parte importante è quella anche delle telecamere presenti nel territorio, per le quali è stato possibile ricostruire anche i movimenti dell'autore dell'omicidio. Annoscia, catturato a Castellana Grotte dai carabinieri della compagnia di Trigiano, è accusato di omicidio volontario. Lorusso è accusato di favoreggiamento, mentre Pellegrino si sarebbe reso colpevole di azioni di violenza e di stalking nei confronti degli altri due e di detenzione illegale di armi. Una realtà che lascia molti dubbi sulla concessione degli arresti domiciliari in casi di questo tipo. Diciamo che parecchi reati vengono commessi da chi è sottoposto agli arresti o alla detenzione domiciliare, per cui sono dei personaggi che comunque continuano a svolgere attività criminale, ma non per questo, non molliamo l'attenzione su questi soggetti.